Quando vidi il plotone che mi puntava contro i fucili, nemmeno la morte mi interessò più. Una pallottola mi spaccò il cuore e una mi penetrò nella fronte. Poi non ricordo dove gettarono il mio cadavere. Commento. Dell'individuo che vive situazioni di estrema drammaticità, si dice in genere che non li dimenticherà mai più finché vive. Le guide aggiungono che quell'individuo non li dimenticherà nemmeno da morto. Tutte le esperienze drammatiche, quindi altamente evolutive, sono rivissute dall'individuo anche dopo la morte, quando egli vive il periodo evolutivo chiamato piano astrale e piano mentale. Rimanendo nell'esempio, chi fa l'esperienza del plotone di esecuzione vive l'effetto di una causa precedentemente mossa, causa analoga all'effetto vissuto, come l'avere ordinato l'uccisione di altre creature o l'essere stato l'esecutore materiale della loro uccisione. Questa esperienza potrà riemergere nella sua coscienza nelle incarnazioni successive e allora si chiamerà reminiscenza. Un tale ricordo superiore potrà causare il terrore per le armi da fuoco o l'odio per i militari o per i luoghi che assomigliano a quello dell'esecuzione. Grazie. 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 Grazie.